È bello avere accanto qualcuno che ci aiuta a risolvere i piccoli problemi di ogni giorno, come Foxy, che con i prodotti Mega ti dà il massimo della qualità nel minimo dello spazio. Da anni Foxy è anche accanto a Unicef e i suoi interventi contro la mortalità infantile. Fallo anche tu, adotta una pigotta. La pambola di pezza dell'Unicef che salva la vita di un bambino. Cercala nelle piazze italiane, una pigotta adottata e una vita salvata. Foxy per Unicef